Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, finalmente dopo tanta attesa è uscita la prima patch di FIFA 22 Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi sul canale, su quelle che erano le novità speranzosi che effettivamente apportassero un po' di ventata fresca al gioco Diciamo che le novità ci sono state, però come al solito secondo me non c'è stata una via di mezzo tra un problema e la sua risoluzione Quindi si è passati da un estremo all'altro e poi andremo a vedere a breve il perché Prima di fare questo però io ci tenevo a fare un attimo un recappino tramite quella che è la schermata che i nostri amici di Foot Universe ci offrono Di quelli che sono i problemi di gameplay che dovrebbero almeno essere stati risolti con questo aggiornamento Ossia che una volta richiesta la finta di tiro in realtà si andava a fare un passaggio In rari casi i giocatori perdevano involontariamente il controllo del pallone In alcune situazioni il portatore di palla non eseguiva la mossa abilità finta e scatto quando richiesto Facendo uscire manualmente il portiere dall'area di rigore il portiere tentava erroneamente di parare con le mani Tentando di intercettare la palla a volte il giocatore poteva involontariamente tentare di allungarla Perdendo il possesso I giocatori con una valutazione mossa abilità compresa tra 1 e 3 adesso andando a fare la mossa a giro all'avversario Quando si cerca di effettuare la mossa di aggiramento avanzato E in alcune situazioni il giocatore della squadra che difende si fermava momentaneamente Quando gli avversari eseguivano un passaggio filtrante alto Quindi diciamo questi che sono i punti salienti della patch Ai quali io vado ad aggiungere anche quello che è la situazione relativa ai tiri a giro E invece alle parate eccessive dei portieri dentro l'area Che per me sono il nodo focale e quello che ho testato molto di più Vi posso dire che per quanto riguarda la finta di tiro il problema è stato risolto Non mi è mai capitato che venisse seguito un passaggio Vi posso dire che non mi era mai capitato che i giocatori perdessero il controllo del pallone Vi posso tranquillamente dire che effettivamente la finta dello scatto vengono effettuati adesso il giusto Il portiere con le mani fuori dall'aria a me non mi aveva mai parato Quindi non mi era mai capitato Su questo magari aggiornatemi voi nei commenti Mentre per quanto riguarda il lancio filtrante Anche su questo non ho riscontrato al momento una vera e propria modifica Perché mi sembra che alcune volte su un determinato tipo di filtrante alto Il giocatore rimanga sempre abbastanza impalato Però ovviamente queste sono chiacchiere E a me piace fare i fatti Quindi stamattina prima di far uscire questo video Che probabilmente vedrete a patch uscita da poco Ho registrato due partite Attraverso la piattaforma viola che bene conoscete Con un ragazzo dalla chat che si è gentilmente prestato Per fare da cavi a vedere se effettivamente le cose funzionavano Per come avevano detto con l'aggiornamento o meno Quindi ho testato soprattutto i tiri dentro l'area Ho testato soprattutto i tiri a giro E ho testato la situazione di contropiede e di intercetto del pallone da calcio d'angolo Quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere Già vedete la schermata appunto davanti a voi Andiamo a vedere se effettivamente cambia la situazione per quanto riguarda le conclusioni Una grande premessa che ci tengo a fare è che Già mi immagino i commenti Sì ma tu Messi Sì ma tu Ronaldo Anche giocatori come Muriel eccetera eccetera Maxi Man sapete bene che prima i tiri a giro li facevano bene Vi sarà capitato tranquillamente Quindi in realtà non focalizzatevi sul giocatore che sta tirando Ma focalizzatevi su quello che la patch diceva di modificare Perché la patch diceva non di depotenziare i tiri a giro Ma di migliorare le animazioni dei portieri Quindi guardate bene i portieri Stessa cosa per quelli che sono le conclusioni all'interno dell'area di rigore Dove non venivano potenziati i tiri ma venivano modificate le animazioni dei portieri Perché quello è il nodo centrale che secondo me Non è stato proprio trattato come si deve Quindi partiamo subito qui con Messi In questa situazione Tiro a giro Vedete Mignon che fa questa parata con la mano di richiamo Onestamente io mi sento di dire che questa è esattamente una delle animazioni nuove Che è stata inserita all'interno del gioco con la patch E qui sicuramente messi da quella zolla con il time add verde avrebbe segnato Quindi diciamo che è vero ci sono delle nuove animazioni Ci sono delle nuove animazioni che fanno evitare di subire gol da queste situazioni Però si tratta di casi molto molto isolati Perché come potete vedere più avanti nel video Se ne subiscono ancora molto tanti di tiri a giro E anche con giocatori abbastanza improbabili Però è vero che hanno comunque aggiunto delle animazioni che risultano abbastanza utili Per quanto riguarda invece questa la situazione di calcio d'angolo Dove si diceva che i nostri giocatori Insomma andavano a marcare molto più da vicino gli avversari Guardate qui Se non guardate la mia fase offensiva Ma guardate dalla minimappa Guardate il mio giocatore col pallino blu Come è azzeccato praticamente a quello che è il giocatore del mio avversario E adesso fate caso tanto alla minimappa Non pensate all'azione offensiva Guardate i giocatori come si muovono in maniera molto più automatica In base a quelli che sono i movimenti dell'avversario guardando dalla minimappa Guardate come li vanno praticamente a traccare tutti i movimenti Per cercare di stare a ridosso ed evitare i contropiedi Qui invece ho ottenuto quest'altra situazione Perché come potete vedere Il problema che il giocatore vada ad allungare il pallone Su quello che è l'intercetto Non mi sembra essere stato risolto un gran che Perché questo è solo uno dei tanti casi In cui il giocatore prende praticamente il pallone E se lo butta fuori Perché fa un controllo errato di metri Quindi su questo onestamente non mi sento di dire Che c'è stata una risoluzione vera e propria Ma mi sembra ancora molto molto inconsistent questa faccenda Poi per quanto riguarda invece Ancora una volta i tiri a giro Parlavo di Messi Guardate qui Hakimi Che cosa si è inventato E il problema non è tanto il tiro a giro Ma quanto vi dicevo l'animazione del portiere Perché guardate qui il portiere Che cosa dovrebbe fare un portiere normale? Dovrebbe tuffarsi Ok alla sua destra Alla sua sinistra Per cercare di prendere il pallone Ok in questa direzione Invece se io adesso vi traccio qui una linea retta Per quanto possibile Guardate Mignon cosa fa Esce subito da quella linea E si tuffa in avanti Praticamente Mignon non ci prova proprio a rimanere su quella linea Ma viene totalmente scavalcato dal tiro E questa è una roba che c'era già prima ovviamente Che rende il tiro a giro molto OP per questo motivo E che non è stata toccata Quindi onestamente vi dico che di tiri a giro se ne faranno tanti E se ne faranno tanti anche con i giocatori più improbabili Qui passiamo invece a vedere qualcosa dentro l'aria Sempre per il discorso Sì ma tu Messi è Kanté ragazzi all'interno dell'area di rigore Con il mancino Ricordiamo che è un giocatore che ha poco tiro e 3 di piede debole Arriva all'interno dell'area di rigore Tira di sinistro E guardate cosa fa Donnarumma Quindi uno dei migliori portieri attualmente del gioco Esattamente si accascia Non ci prova proprio ad allungare le mani Sembra quasi che le ritiri indietro Guardate cosa fa Puff La palla entra comodamente Questo era un gol che non vi sareste mai sognati Neanche di provare con Kanté Prima della patch Invece adesso entrano abbastanza comodamente E non sarà questo l'unico esempio Qui ancora una volta guardate con Kanté Perché sempre dalla chat oggi arrivavano insomma Spunti per far provare a tirare giocatori Che non sono proprio il top Quindi per dire Kanté è molto più scarso anche di un muriel a tirare Guardate Kanté qui che si inventa il tiro della domenica Con un timet bianco Che ancora una volta stava beffando Un impassibile Meignan Che dopo essere stato tanto fuori dai pali Non prova neanche ad avvicinarsi alla linea di porta E si stava un'altra volta facendo sorprendere Qui invece ritorniamo nell'andare ad analizzare Una situazione all'interno dell'area di rigore Guardate Mbappé Ancora qui una volta Situazione di tiro da primo palo Che magari prima potevate affrontare solo con un driven shot Invece adesso Si può tirare anche di potenza sul primo palo Cosa che invece il portiere prima avrebbe sicuramente parato Guardate qui cosa fa il portiere Ancora una volta Come se qualcuno dalle tribune L'avesse cecchinato Probabilmente sarà il San Siro della partita dell'Italia Per cui Donnarumma sarà stato oggetto di lancio di corpi contundenti E invece la palla IFA viene totalmente a entrare su un tiraccio Anche qua stessa cosa Mbappé un altro tiro che mai nella vita sarebbe entrato prima della patch A ridosso del dischetto di rigore Un tiro a giro banalissimo Guardate Donnarumma ancora una volta che cosa fa Si lancia praticamente in avanti Prima di fare il passo laterale E la palla entra in maniera abbastanza In maniera abbastanza goffa Qui al limite dell'area di rigore Ancora una volta cerco di provare una conclusione Che prima mai mi sarei sognato di fare Guardate l'animazione che Donnarumma fa Questo è un tiro senza pretese Non è un tiro capito davanti la porta Che uno dice ok ora è il momento di tirare No questo è un tiro proprio telefonato Per provare giusto per vedere quello che succede Portiere che un'altra volta si accascia totalmente su se stesso E non è proprio un bel vedere Se proprio ve la devo dire tutta Qui ancora una volta invece tiro a giro col bianco Stesso discorso con Mignan Che guardate come fa un passo in avanti Piuttosto che fare un passo laterale per prendere il pallone Quindi male sotto questo punto di vista qui Ancora una volta tiro a giro Con sempre Mignan che si butta in avanti E non cerca minimamente di impattare il pallone Ancora una volta anche qui con un timehead bianco Quindi senza prendere neanche il timehead verde Questo per testimoniare il fatto che comunque di parate ce ne sono poche Questa è una nuova animazione anche qui Perché questo era un tiro che sarebbe entrato sicuramente prepatch Qua praticamente avete visto come invece ha fatto i passetti Guardate Mignan come fa i passetti laterali Ci prova guardate si è spostato E adesso l'ha parato da quella zolla lì Quindi praticamente è come se avessero semplicemente aggiunto Delle possibilità di parare i tiri Ma solamente da alcune zolle Non sempre quindi per ogni tiro a giro Qui ancora una volta Messi E ancora una volta Mignan che fa la stessa animazione Guardate i passetti laterali E riesce a fare praticamente la stessa parata Con lo stesso movimento Qui invece con Neymar ritorniamo ad analizzare un po' dentro l'area di rigore Ancora una volta tiro sul primo pallone Con Donnarumma che ancora una volta viene praticamente annichilito da questa conclusione Che non sarebbe mai entrata prima Qui invece con Neymar proviamo dall'altro lato Un tiro a giro sempre col timer da posizione un po' strana Con il portiere che va sempre in avanti invece di tornare indietro Questa è una delle situazioni più esilaranti secondo me Perché io qui non dico che non devo segnare Ok? Però guardate Il problema non è il goal Il problema è l'animazione del portiere Cioè il portiere cosa ha fatto? Si è steso Sembra l'esultanza del cecchino quando si tuffano per terra Quindi non bello Così come questo tiro qui È un tiro esattamente senza pretese Con un doppio tap La palla praticamente al limite dell'area Guardate ancora una volta Il portiere come si tuffa In maniera molto goffa Senza produrre neanche il tentativo di parata Cioè non dico che deve parare Qua dovrebbe parare Però non ci provano nemmeno Quello è il problema Quindi il discorso fondamentale secondo me È che giustamente i portieri erano troppo forti Era necessario ridurne l'efficacia Però non si può passare da una onnipotenza Ad una inutilità Perché come potete vedere I portieri alle volte veramente dentro l'area di rigore Non producono effetti Mi aspettavo di più sulle intercettazioni E mi aspettavo di più sui diri a giro Che è vero Va bene per me tenerli Però qualcosina in più Perché ci sono ancora delle situazioni reali Come avete visto quella di Hakimi Di Kanté E col portiere che invece di tuffarsi laterale Si butta in avanti Quindi raga Per questo video è tutto Fatemi sapere voi come vi state trovando con la patch Mi raccomando Nei commenti In descrizione trovate tutte le info Per le live giornali sulla piattaforma viola Un saluto dal vostro Riberoski Alla prossima Ciao Ciao